Salve a tutti ragazzi, sono Wartomas Corsegolo di questo nuovo episodio della serie di subito. Se mi mettono, nel scorso episodio avevamo provvisto a dichiarare guerra agli stati della penisola arabica e dopo aver vinto questa guerra, dove si erano create qualche fazione se non ricordo male, siamo ufficialmente entrati in guerra con l'Africa, quindi andiamo a dichiarare guerra a gran parte dei stati del nord Africa, praticamente tutti, e pian piano ci sposteremo verso Centro-Africa e Sud-Africa. Detto ciò, possiamo continuare con l'offensiva, vediamo se abbiamo chiamato tutti in guerra, sì, perfetto, quindi potremo già iniziare poi a smistare completamente, intanto qui c'è uno sbarche italiano che è fallimentare purtroppo, a livello di copertura navale siamo messi non bene, cioè in realtà ci manca qualcosina da coprire, non so come facciano le mie neve a coprire qui e qui separatamente, e qui invece no. Ah, e infatti per adesso l'efficacia del piano è solo qua, era buggato, sì, perfetto, quindi non c'è passaggio ovviamente, perché parte dello stretto di Gibilterra è conquistata dal Marocco attualmente. Perfetto, qui l'offensiva non vedo minimamente problema per la nostra avanzata, siamo superiori a tutti i punti di vista. Si scatta un sacco il gioco, vabbè. Allora, vediamo un po' la nostra forza attualmente. 983 divisioni totali, delle quali 807 nostre, quindi ci sono un bel po' di divisioni alleate. Eh, ho già finito la guerra, ma che cazzo. Abbiamo tirato giù già mezza fazione, in pochissimo tempo, perfetto, allora. Intanto che facciamo questo trattato, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e iscrivetevi perché questo è davvero molto importante, e ovviamente rimettete mi piace al video se la serie vi sta piacendo. Allora, vi ricordo anche di lasciare un commento perché è molto importante il vostro supporto anche dal punto di vista dei commenti per vedere se vi sta facendo la serie o cosa vorreste vedere. Quindi, qui adesso dovremo fare delle modifiche. Allora, io cosa avevo detto che mi sarei preso? La facciamo che noi ci prendiamo metà del Stato di Gibilterra, e poi facciamo che ci prenderemo anche Sudafrica e parte del Centroafrica, e il resto lo lasciamo all'Europa. Quindi, possiamo fare che all'Italia iniziamo a dare queste parti. Ora vedo bene come strutturarlo, eh, con calma. Possiamo sempre modificarlo dopo. E' bello grande questa porzione. Diremo lasciare spazio anche agli altri, poi a qui diremo Francia. Allora, a questo punto possiamo fare così. Qui, Kenya, non so se anche Luganda, vedremo comunque fino a Kenya e il resto del Corno d'Africa, lo diamo all'Italia, poi facciamo che l'Algeria, l'Algeria, Mali, Niger, Chad, lo daremo alla Francia, questa parte del Marocco lo diamo alla Spagna, e poi quest'altra, lo taglieremo una parte costiera, e magari anche l'isola di Madrascara, non lo so, comunque una parte costiera atlantica per il Regno Unito. E direi che, da punto di vista coloniale, siamo a posto. Dovremo dare qualcosa anche alla Germania? No. Magari parte del centro, Centro-Africa potremmo dare alla Germania, e poi dopo c'è il nostro possedimento, che possiamo fare andare dall'Angola, a questo punto, al Sud-Africa. Buon, mi sembra una buona idea di spartizione. Almeno la contattiamo tutti, no? Allora, rimanga il Crocià del Niger, che a questo punto avevo detto che aveva dato alla Francia. Perfetto. Continuiamo con la guerra. Quindi dobbiamo rifare il fronte. Ci sono altre nazioni qui da combattere? No, perfetto. Rimane questa fazione che era, l'intesa africana. Perfetto, c'è anche questo. Ah, l'ultima nazione che era dentro questa Società delle Nazioni Libiche. Facciamo l'offensiva. L'unico mirante fino al Marocco. E li lasciamo andare. Tanto qui continuano a sbarcare, senza successo. Molto male, molto male. Stanno uscendo un po' di divisioni, molto bene. Quindi questo clima di guerra sta facendo fare un bel po' di divisioni. Quello che ne ha di più attualmente è la Cina con 18 divisioni. Poi abbiamo Giappone, Bielorussia, Italia. L'Italia è un sacco militarizzata, complimenti. Complimenti. Penso addirittura più degli Stati Uniti. Dove sono gli Stati Uniti? Eh, minchia. Gli Stati Uniti è 9 e l'Italia ha 10 divisioni. Quindi è il più militarizzata l'Italia. Perfetto. Buon, mi aspetto davvero molto da questa fazione enorme. Allora, il Mali è capitolato. E il Mali, abbiamo detto che dovremmo darlo alla Francia. Quanto meno parte, lo diamo alla Francia. Poi questa parte qui magari la mettiamo in questa sfera di influenza inglese. Quindi facciamo così. Regno Unito. Dove minchia, eh? Ha la bandiera farlocca, ecco qua. Perfetto. Sta cominciando a prendere forma. Mi piace. Qui ho la Tunisia a capitola. Perfetto. E questa parte ovviamente per forza di così la daremo all'Italia. Così ha la sua bella sfera. Eh, sì. Poi noi ovviamente dobbiamo ottenere comunque un minimo di dominio. Quindi è giusto che ci teniamo il Levante. Comunque le zone più calde dal punto di vista politico. E anche parte comunque del canale Suez. Stasera mi sta piacendo davvero un sacco. Stiamo facendo dei trattati incredibili. Ora abbiamo degli allati fortissimi. Fini di questo episodio, prima di finire l'episodio, anzi, ci guardiamo bene come sono strutturati, poi ovviamente finiti queste, prima parte di questi trattati, come sono strutturati i nostri alleati, ovvero quante fabbriche hanno, quante divisioni saranno riusciti a raggiungere. Rabat. Tutto fatto, questo? Rimasta questa piccola porzione. Perfetto, Algeria capitolata. E questa parte, vediamo se si può spartire. Sì, perfetto, si può spartire, quindi diamo Francia e qui. Non so se estendere ulteriormente il dominio spagnolo, oppure dare... Beh, facciamo così. Stendiamo un pochino la Spagna. Così bilanciamo un po' le potenze. Poi ovviamente, dismi nei commenti cosa ne pensate di questi trattati, in modo che se c'è qualcosa da modificare, ovviamente lo modificheremo insieme. Oh, dei carri. Dei carri della Bielorussia. Qui cosa possiamo fare? Spesale di divisioni. Facciamo questa parte diplomatica. Perfetto. Fine della prima parte della guerra. Ovviamente in questo episodio, visto che manca ancora un sacco, prima della fine, inizieremo già con magari dichiarare la guerra dei paesi del corno d'arbre, che ho visto che sono molto militarizzati. Allora, quindi, iniziamo con l'Italia. Tunisia. E qui, fine possedimenti italiani. Poi, Spagna. Spagna, diamo il Marocco. C'è anche, queste isole ce l'hanno già, perfetto. Ecco qua. E poi, se non erro, rimane solo più la Francia. Quindi, Francia che è qua. C'è qualche altra parte? No. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Molto bene. Mi sta piacendo un sacco. L'Italia ha un ruolo davvero molto importante qui, in questo scenario. Non male. Madonna, diamo un sacco di artiglierie. Non ci serve assolutamente un cazzo. Possiamo ridurre la produzione dell'artiglierie. Ma solo qui, solo qui produciamo artiglierie. La riduciamo a favore dei carri. Quindi è già andato qua. A favore dei carri, va bene. Spazio di ricerca che possiamo dedicare. Vediamo un po'. Quanti giorni? 2.46. Soft. Facciamolo, va bene. Tieno un po' più di vantaggio anche notturno. Quindi qui cominciamo a sistemarci. E ora dichiariamo guerra. Andiamo a dichiarare guerra. Quindi ha l'Etiopia, l'Eritrea, Somalia. Questo è Somaliland e questo è Jujuji. Questo me lo ricordavo. Che tra l'altro è un protettorato francese. Non so che... Ah, non è protettorato. Però c'è una divisione qua. Prima di essere pantoccio era protettorato, quindi. Perfetto. Ah, sono nazionalisti, eh. Eh, hai visto quanto... Quanto nazionalismo hanno questi stati. E faranno una brutta fine. Allora. Andiamo avanti qui con le navi che ci servono. Intanto che si spostano possiamo iniziare a giustificare. Quindi prima parte. 1. 2. Bari. Ho letto Bari, ma che cazzo. Poi. Somaliland. Quindi anche questa seconda parte della guerra è pronta. Questi saranno tutti i territori. Che andranno a arricchire i possedimenti italiani. C'è anche il Kenya, in realtà. Allora, buttiamo giù anche questo. Così facciamo tutto completo. E sappiamo che poi non dobbiamo aggiungere più niente all'Italia. Potrebbero essere tutti pronti, quindi. Oh, cazzo. Blocchiamo il tempo prima, magari. Ehm, qua. Sei bloccato, porca puttana. Sono sempre peggio il gioco, ragazzi. Ah, fatto con le holle. Non me ne era accorto. Stavo facendo di nuovo. Non facciamolo, ragazzi. Che succedono cose molto brutte. Non possiamo corrompere il salvataggio adesso. Perché abbiamo già fatto un sacco di roba. E adesso possiamo fare il chiamato a tutti i membri. In un'unica volta. Ottimo. Quindi aspettiamo che passi un giorno. Ma dove si riorganizzino. Non so, stessi che il gioco. E possiamo fare il fronte unico. Perfetto. E possiamo anche attaccare. Vedete, è un milione di divisioni. E questi sono i risultati, ragazzi. Un sacco di attrite. Non si può sfondare. Però dovrebbe essere risolvibile. Altri punti. Andiamo avanti con la porta diplomatica. Guardate le navi qui, indiane. Che si spostano. Abbiamo fatto una sacca. Molto bene. La nostra superiorità è incredibile. Siamo già entrati a di sapeva. Stato veloce. Non sono per niente organizzati. Hanno guardato le 16 divisioni meccanizzate. Madonna. Allora, l'Eletrea è la prima a cadere, ragazzi. Quindi, Italia. Ecco qui un altro possedimento. Ora accadrà l'Etiopia. Penso questa è l'ultima città. Sì. Ecco qua l'Etiopia. Non hanno fatto alcuna fazione. Molto strano. Quindi. Qui. Etiopia. Di Giuji. Perfetto. Prendiamo. Un dietro l'altro. Quindi. Qui. Stavo sbagliando. Dove siamo? Ottimo. Abbiamo due tonniti, ragazzi. Voglio solo farmi notare. Adesso non serve utilizzarle. Le terremo per... Penso teatro più completo. Che sarà quello... Ehm... Per via... Per il livello di territorio. Del centro Sud America. Poi ci saranno... Ci saranno anche più divisioni di qua. Quindi. Vi lascio immaginare che casino ci sarà. Il nostro boss sarà contento qui. Dei suoi nuovi possedimenti. Farà un casino infernale. Ehm... Cos'è successo? Perché questi? Non so perché ci siano queste parti pagate. Comunque adesso è capitata solo Kenya. E poi manca... Ehm... Mancherà solo più la Somalia. Quindi. Kenya. Annetti. Mogadishus. Sush. Ecco qua. Capitolati. Molto 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 bene. Quindi. Annettiamo anche la Somalia. E abbiamo finito il coronavirus. Perché è anche con i possedimenti italiani. Non so se questo... Ci sta bene. Non penso ci sia bene l'Uganda. Con il confine. Mi piace abbastanza così. Perfetto. Ed è un fatto una roba incredibile. Non so se aumentare il potere della Grecia. Mi va bene così. Sinceramente. Qualcosa... Sempre qualcosa come il cuscinetto contro le possibili potenze. Io sto pensando tutto ragazzi. Il mio mondo sarà perfetto. Quindi. Adesso. E la parte più polosa è questa. Qui ci sono un sacco di stati a qui di creare guerra. Allora facciamola. Così ci vediamo di torno. Ci mettiamo. Questa linea di copertura. Ecco. Da oggi la chiamerò linea di copertura. Visto che non mi avete detto ancora come posso definirla. Quindi da oggi la chiamerò così. E ci fermiamo qui in Nigeria. In modo che non devo padare a questo spezzamento di confine dovuto dal lago. Ma che cazzo. Allora. Iniziamo. Uno. Due. Ma fanno scassare. Questo è più serio. Dai. Allora. Qui è fatto. Questo era già ragionito. Non posso creare guerra ragionito. Sarebbe un problema. Ma che cazzo. Ma che cappello ha. Ma cosa. Ah non tutti i capelli simili. Allora è qualcosa di tradizionale. Ma questo non ce l'ha proprio. Neanche nel cappello. Nei capelli. Perfetto. Questo. La gambia. Fatto. Quindi l'ho fatto tutti. Sierra Leone. Perfetto. Non ci resta che attendere. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Ancora un po' ce ne mancano. Aspettiamo il 30 febbraio. Quindi siamo sicuri di averli tutti pronti. Tanto si vuole anche spostare le nostre divisioni. Quindi va bene. Senegal Gambia. Dovrebbe essere tutti pronti. Perfetto. Ho seriamente. Vi sono reso conto adesso che ho detto il 30 febbraio. Ma che cazzo. Lasciate stare. Non ho detto niente. Allora. Uno. No. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Dove ci state. Perfetto. Chiamo tutti gli alleati. Ottimo. Hanno. Sono andate nella fazione. Del Senegal. Quindi stanno ripopolando la fazione. Tutti. Quasi tutti. Che bello. Bravi. Bravi. Mi stanno anche respingendo. Sono fortissimi ragazzi. Abbiamo appena perso una guerra. Allora. Quindi andiamo avanti. Perciò di meno di sosse nel mercato. Molto bene. Questo ci renderà. Minchia. Ci ha dato 300. 350 di ferro. Di acciaio. Anzi. Scusate. Qui siamo a posto? Sì. Quindi possiamo. Tranquillamente. Fare adesso. Il fronte unico. Notare come le nostre 70 divisioni. Sono sufficienti. Per badare anche a 400. Oh. Il disastro c'è fu uscita. Porca puttana. Per badare a 400 divisioni di loro. Guarda che devastore. Ma li stiamo schiacciando. Ah. È già cobitata? Cioè. Ho buttato giù il Senegal. Che era il capo passione. E sono colluti tutti. Ma siete delle merde. Ma che cazzo. Quindi queste parti. Se non ricordo male. Sì. Sono tutte. Tutte inglesi. Allora dov'è? Il Regno Unito. Ah. È questa bandiera qua. Mi dimentico sempre. Qui forse facciamo prima. All'annettere così. Invece no. Perché il gioco è pacco. E. Mi fa. Passare il turno. Prima di passare. A nuova nazione. Quindi. Facciamo manualmente. Tutti fatti. Ottimo. Chi manca? Ah. Si sono arresi. Avete fatto male al render via. Avete fatto davvero molto male. Quindi. Ah. Adesso c'è il truce. Porca puttana. Quanto devo aspettare? 13 aprile. Vaffanculo. Che merda. Che si sono arresi. Quindi passiamo al Cameron. Dove siamo? Siamo qua. Perfetto. Togliamo. Passiamo a luttificare. E non vi preoccupate ragazzi. Che ci torneremo prima o poi a quelli. Ci torneremo. Serra Leone. Dove cazzo è? Ah. Questi non si sono arresi. Freetown. La città libera. Non ho capito cosa è successo. Il Ghana. Che è qua. Dove cazzo è il Ghana? Non lo vedo. Ah è qui. Ma sono cieco. Gazz. Va bene. Se vuoi entrare in guerra. E perdere fai pure. Bene. Annettiamo. Allora. Qui possiamo dichiarare guerra tranquillamente. Quindi adesso il capo fazione della. Della. Società delle Nazioni Libica. È il Ghana no? Sì. Bello come si passano. Testimonoli per badare la fazione. È molto ridicolo. Allora. Passiamo a chiamare tutti. Qui possiamo chiuderli. E anche qui. Gioco da ragazzi. Facciamo un sacco di morti. Guardate quanti morti. Cioè. È devastante quante persone stiamo. È un vero genocidio. Stiamo sterminando un sacco di persone. Perfetto. Regno Unito. Ora. Penso che i possedimenti Regno Uniti li facciamo procedere fino al Congo. E magari daremo anche parte di questa Repubblica Centroafricana. E questo lo diamo alla Francia ancora. Magari anche questa parte. Questa. La sfera inglese termina qui. Poi potremmo dare. L'Uganda. Tanzania. Questi qui. Burundi. La Ruanda. Anche magari parte. No. Niente parte dell'Angola. Questo sicuramente sì. Comunque. Facciamo una specie di cuscinetto. Qui. Tedesco. E poi. Ci siamo noi. Molto bene. E basta ragazzi. Quindi per questo episodio. Ne ho fatto. Passi davvero gigante. Siamo nel. 28 marzo 2011. E stiamo creando dei confini. Assurdi. E. Ora. Vi ho promesso che avremo visto. Come sono. I nostri stati. A livello di fabbrica. Quindi. 68 51 Francia. Spagna. 54 44. Italia. 164. 191. Bossi. E' una bestia ragazzi. 90 94. Ha doppiato. Ragazzi. Ha doppiato la Germania. E' una cosa davvero incredibile. Oh cazzo. 100 107. Molto forte anche l'Inghilterra. Poi ci siamo noi. 5 196 461. Fortissimi. La Cina. 170 154. Ragazzi. L'Italia è più forte della Cina. Un'India che sta poco sotto la Cina. Che però comunque è molto forte. Guardate quanti uomini ha. 187 milioni di uomini reclutabili. Una roba vergognosa. Più della Cina. Poi la nostra passione comunque sembra devastante. 203 divisioni. E' un po' forte. Svezia 30 12. Polonia 20 19. Tutti questi stati qui minori sono molto ridicoli. Non possono competere con i nostri macro stati creati. In questo momento. 164 166. Quindi. Gli Stati Uniti stanno sopra Cina e India. E però sotto l'Italia comunque. A livello di fabbriche civili. L'Italia è sopra. Ma la Militari è leggermente sotto. Ma penso. Che tutto sommato. L'Italia potrebbe avere. Delle sorprese nei confronti. Dei Stati Uniti. Secondo me potrebbe anche batterlo. In un possibile conflitto. E vi ricordo. Quest'Italia non è da stasvolutare. Le abbiamo dato davvero molto. E ci aspettiamo ovviamente molto. Gli ultimi stati che. L'ultimo stato che manca. Da vedere. E' il Canada. Che ha 50 42 fabbriche. Quindi molto forte anche il Canada. E non me l'aspettavo. Molto bene. Molto bene. Quindi ragazzi. Per questo vi è tutto. Noi abbiamo preso un po' sul visore. Di questa grande serie. Di reso i putti. E ciao.